Paolo Engel Ricordiamo che è stato poche settimane fa qui presente a Cure Pagliative accanto a Annalisa Oggi è l'ultimo saluto che Paolo rivolge a Annalisa Cosa hai provato a conoscere questa straordinaria ragazza? Tanto un grazie per il regalo che mi ha fatto di averla potuta conoscere Era una persona di una grande carica umana, di un grande coraggio Che ha deciso di fare della sua storia una cosa che è diventata un appello Un momento di denuncia, un grido di aiuto Come dire, non chiudiamoci nel nostro dolore Non rimanete lì fermi, chiusi in voi stessi Ma che si parli della mia storia come un esempio che riguarda tutti Perché se ci sono associazioni come quella delle Cure Pagliative Che possono dare sollievo, aiuto a decine e decine di persone Questo vuol dire che accompagnarti nel passaggio Chissà dove Chissà se c'è l'al di là o non c'è Accompagnarti, aiutarti in questo Aiutare i parenti, i familiari, le persone vicino È una cosa importantissima Non ci si pensa quando si vive ognuno la propria vita Ma la perda di analisi è questo Guardiamoci intorno Non viviamo ognuno la propria vita Viviamo esperienze come questa Come qualcosa di collettivo Ed era straordinaria la sua carica La sua voglia anche di ridere, di scherzare L'ho conosciuta con la paura anche Di invadere la sua vita La sua privacy E invece era lei che ti metteva a tuo agio Giocava e tu la guardavi ammirato Dava quasi il coraggio lei a noi Dava lei il coraggio a noi Ha dato lei il coraggio a noi L'aiuto invece che prenderlo dagli altri Lo ha dato lei a tutti noi Grazie mille Paolo Grazie